Eccoci con la settimana in mistica numero 4760, il mio amico Gipo, con lo pseudonimo Pontrelli, lo pseudonimo Gipo, ha creato un rebus, un rebus a cambio, ecco anche lo scorso numero, avevamo risolto insieme un rebus, una variante di rebus, lo facciamo anche questa volta. Rebus a cambio, come la scorsa settimana, cambieremo delle lettere dal disegno, ecco il disegno è questo qui, questo rebus sul primo momento non ero riuscito a risolverlo quindi adesso lo risolvo con voi. Allora, ci sono dei cavalli dietro e uno in primo piano con le lettere IL. Allora, rebus a cambio, sette, sei, siccome ci sarà una parola di sette nella soluzione, ho pensato che cavallo, cambiando la A, la seconda A in I, viene fuori cavillo e allora potrebbe essere questa una parola della soluzione, quindi cavallo, sette lettere, poi una parola di sei, darà fuori cavillo, sette lettere e un'altra parola di sei. nella prima parola abbiamo sostituito una lettera con la I, nella seconda dobbiamo sostituire come indicato una lettera con la L. Però a questo punto, siccome gli altri cavalli non avevano tutta questa, la sella e gli altri arredi su di loro, avevo pensato a bardato, bardato però a sette lettere e non posso cambiare una lettera per ottenere una parola di sei lettere. E allora ecco questo è il suggerimento che rivolgo a me ma anche a voi. Bisogna guardare molto bene il disegno. Intanto è anche pensare alla soluzione. Cavillo. Ci sono i cavilli, naturalmente c'è qualche azione con qualche avvocato se abbiamo dei cavilli. Il cavillo è legale e allora ecco quello che io avrei dovuto notare sul disegno. Il cavallo è regale perché su questa bardatura c'è il simbolo di una corona quindi il cavallo può essere montato per esempio da un re. Quindi ecco il cambio. Cavallo regale, cavillo legale. Benissimo Gipo, bel gioco e te l'abbiamo risolto. Ciao a tutti.